Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link in info box e vi ricordo che su Facebook pubblico dei video inediti di casi italiani. Quindi se avete voglia di sentire un po' di casi italiani che non porto da un po' qui sul canale, andate pure su Facebook a dare un'occhiata. Detto questo, diamoci dentro col video. In casa nostra ci sentiamo al sicuro in un rifugio che ci rende intoccabili, al riparo dalle aggressioni del mondo esterno. Ma non è così se un insospettabile assassino decide di fare irruzione nelle dimore altrui e scatenare il peggio di sé. Daniel William Marsh nasce il 14 maggio 1997 e cresce a Davis, in California. Suo padre si chiama Bill, sua madre si chiama Sherry, ha una sorella maggiore di nome Sarah. Durante l'infanzia di Daniel si verificano diversi eventi significativi per il suo vissuto e la sua crescita. Quando ha due anni, sua madre Sherry subisce un grave trauma cranico. La commozione cerebrale le provoca un'importante amnesia, a causa della quale Sherry non riesce a ricordare che è sposata e che ha due bambini. Il padre di Daniel, Bill, afferma che Sherry è andata a vivere con i suoi genitori per potersi riprendere con maggiore tranquillità, mentre lui è rimasto a casa per prendersi cura dei figli. Questa situazione però si protrae per quattro anni, generando un forte impatto negativo sui pensieri di Daniel e Sarah, che si sentono totalmente dimenticati dalla madre. Le conseguenze dell'incidente ovviamente non possono configurarsi come una colpa da attribuire a Sherry. Tuttavia è difficile che dei bambini sopraffatti dal senso di abbandono riescano a comprenderlo. In ogni caso, dopo questi quattro anni, Sherry torna a vivere con la famiglia, ma su questa parte della storia alleggiano diverse contraddizioni. Sherry nega addirittura di aver mai subito l'incidente, afferma di non avere mai sofferto di una simile amnesia. Il trauma cranico gli aveva provocato una commozione cerebrale, ma nulla di più. Secondo Sherry, suo marito Bill si era inventato tutto per allontanarla. Non possiamo sapere quale sia la verità, visto che i due coniugi sostengono l'esatto contrario, dunque questo accadimento ci lascia ben intendere che la relazione tra i due non fosse buona, anzi, era instabile e tossica. Anche se Sherry e Bill sono sposati, non c'è un legame solido tra loro, non vanno d'accordo e non vivono insieme nel senso familiare del termine. Infatti assomigliano più a due coinquilini che a un marito e a una moglie. Del resto, quando Daniel ha dieci anni, sua madre inizia una relazione segreta con una donna, ma non si tratta di una donna qualsiasi, bensì di colei che era stata la maestra d'asilo di Daniel. E la situazione peggiora ulteriormente quando, una volta scoperta la tresca, Sherry e Bill divorziano. Sherry prosegue la relazione con l'insegnante di Daniel, ma il bambino non accetta affatto questa nuova unione. Non ha alcuna intenzione di stare in compagnia di sua mamma e della sua nuova compagna, così evita entrambe. Il piccolo Daniel diventa furioso ogni volta che sta a contatto con la madre, infatti esterna il suo lato più conflittuale, le imprega contro e le rivolge degli insulti omofobi che ha imparato da suo padre, dato che Bill usa questo tipo di linguaggio nei confronti della sua ex moglie. Così Daniel passa dall'essere un bambino amorevole, gentile e premuroso, a un ragazzino sempre arrabbiato e ostile. E i pensieri che ora galleggiano nella sua mente sono a dir poco allarmanti, perché Daniel comincia a fantasticare di uccidere le persone. Nello specifico vorrebbe eliminare l'ex insegnante con cui sua madre sta avendo una relazione e ha appena dieci anni. Tra l'altro Daniel questi macabri pensieri non li custodisce come uno scuro segreto, piuttosto va in giro a raccontare ai suoi interlocutori che vuole strangolare a morte la sua ex insegnante. Ma anche tagliarle la gola. Questo purtroppo non è un caso isolato che gli adulti intorno a Daniel possono ignorare o non prendere troppo sul serio. Infatti lui ripete tali affermazioni per un lungo periodo di tempo. Anche quando Daniel comincia a farsi visitare da un terapista, gli rivela le sue fantasie più cupe e si dichiara intenzionato a trasformarle in realtà. Come detto, Daniel ha appena dieci anni, è un bambino. Forse qualcuno può aiutarlo a salvarsi in tempo prima che questi pensieri riescano a dominarlo completamente. Arriviamo al novembre del 2009, quando Daniel ha dodici anni e sta facendo i compiti insieme a suo padre. All'improvviso Bill avverte un forte dolore al petto. Purtroppo è quello di un infarto nella sua fase iniziale. Bill e suo figlio montano in macchina, dirigendosi verso l'ospedale più vicino. Bill guida velocemente per arrivare il prima possibile, ma di colpo il suo cuore smette di battere. Così sviene. Il suo piede però continua a premere sull'acceleratore, quindi l'auto non rallenta la sua avanzata. Intanto Daniel, seduto sul sedile del passeggero, è comprensibilmente terrorizzato. Suo padre ha perso i sensi davanti a lui e la macchina procede fuori controllo ad alta velocità e con il rischio concreto di schiantarsi contro pedoni e altre macchine. Daniel prova a schiacciare il pedale del freno, ma non riesce a raggiungerlo. Tuttavia sa che deve fermare l'automobile in qualche modo, altrimenti lui, suo padre e forse anche dei passanti o altri automobilisti si faranno del male. Daniel allora afferra il volante e lo gira, però l'auto va fuori strada, salta su un cordolo, oltrepassa una siepe e si schianta contro un muro di cemento. Sorprendentemente il piccolo Daniel non rimane ferito dall'incidente, ma suo padre è ancora immobile e il figlio è assalito dal panico. Daniel è convinto che suo padre sia morto. Poi però ricorda di aver visto un film in televisione in cui al protagonista veniva eseguita una rianimazione cardiopolmonare. Così inizia a colpire Bill al petto, sperando che funzioni. Fortunatamente l'uomo si risveglia con un sussulto, il suo cuore riprende a battere. Daniel ha appena salvato la vita a suo padre. E non so come sia riuscito a guidare l'auto fuori strada senza ferire altri pedoni o conducenti dei veicoli. È stato davvero in gamba ad appena 12 anni. In seguito a questo episodio, Daniel finisce in televisione sui notiziari trasmessi a livello nazionale. Il ragazzino diventa un fenomeno mediatico, rilascia diverse interviste televisive, gli vengono dedicati vari articoli e gli viene assegnato il premio degli eroi della Croce Rossa. Eppure, nonostante le sue nobili azioni durante l'incidente, adesso le fantasie oscure di Daniel si incrementano. Daniel ha salvato la vita a suo padre, ma fantastica costantemente sul togliere la vita a qualcuno. Sente di avere il potere di resuscitare le persone. Secondo sua madre Sherry, quando Daniel ha salvato la vita a Bill, è rimasto completamente traumatizzato dall'accaduto. Sì, ha ricevuto molte attenzioni e rassicurazioni, ma ogni volta in cui raccontava il fatto, riviveva il trauma. Questo lo avrebbe condotto lungo un sentiero sempre più buio. Quando entra nell'adolescenza, la vita scolastica di Daniel si complica. Daniel diventa un po' emarginato, fa fatica a integrarsi con i compagni, tuttavia non è un tipo completamente solitario, perché qualche amico riesce a farselo e trova pure una fidanzata. Molte fonti si soffermano anche sull'abbigliamento di Daniel. Io non credo sia così rilevante, ma si sottolinea che il ragazzino indossava sempre vestiti neri, esattamente come me. Anche io prediligo capi di questo colore e non credo che i gusti sul look definiscano una persona. Tuttavia Daniel si presenta ai nuovi allievi in modo strano, dicendo ciao, io sono Dan e mi piace molto il buio. Viene preso parecchio in giro per questo, infatti i compagni iniziano a chiamarlo Dan, a cui piace il buio. Daniel apprezza particolarmente la musica di genere heavy metal, il suo gruppo preferito sono gli Slipknot. Secondo le fonti la band ha esercitato un'oscura influenza sulla sua mente, ma anche questi, a mio avviso, sono pensieri superficiali. Un sacco di gente ascoltano gli Slipknot, io li adoravo quando ero adolescente, ascoltavo tantissimo anche i System of a Down, non si tratta di musica soft, ma non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di uccidere qualcuno. Vi dirò di più, quando ascoltavo questo tipo di musica, frequentavo una comitiva di metallari. Tutte persone enormemente gentili, anche più di quelle che preferivano la musica pop, almeno in base alle mie esperienze. È vero, alcune canzoni metal danno voce a testi oscuri, ma la musica non instilla nella mente un istinto omicida. Così come non lo fanno i libri, i film e le serie tv. Penso che a volte, quando si discute di vicende complesse, per qualcuno sia più sbrigativo trovare qualcosa da incolpare. Tornando a Daniel, lui ha anche un altro hobby particolare, quello dello sputafuoco. Poi, purtroppo, è anche solito fare del male agli animali, ferisce o addirittura uccide degli uccellini che cattura nel suo quartiere. Inoltre, Daniel soffre di enuresi notturna. Il ragazzino, in pratica, assume una serie di comportamenti che è psicologicamente riconducibile alla triade di McDonald e che costituisce un campanello d'allarme per la psicopatia. Questi comportamenti vengono diagnosticati tra l'infanzia e l'adolescenza e consistono proprio in un'intensa ossessione per il fuoco, nelle enuresi frequente e senza controllo, cioè nel rilascio involontario di urina, e nel procurare sofferenza agli animali. Dan, ormai vittima di bullismo, inizia a saltare la scuola, i suoi voti peggiorano e comincia a fare un largo uso, soprattutto di alcol, ma anche di sostanze leggere. Inoltre, prende pure a rubare. Le sue abitudini malsane diventano chiaramente un problema, perché ogni volta che Daniel beve, manifesta dei violenti scatti d'ira. In alcune occasioni distrugge i mobili, sfascia porte e muri, prendendoli a pugni e a calci. Sua madre afferma che Daniel fa sempre quello che vuole, e nessuno dei due genitori sa come comportarsi con lui, come gestirlo e rindirizzarlo sulla strada giusta. L'adolescente si alterna vivendo o con sua madre o con suo padre, dato che i genitori si sono separati. Ma il comportamento di Daniel diventa così intollerabile che Bill lo caccia di casa. Così il ragazzo si stabilisce permanentemente dalla madre e nel frattempo i suoi problemi di salute mentale si fanno ancora più seri. Daniel soffre di una grave depressione che lo porta a infliggersi l'autolescente e ripete di volersi togliere la vita. Afferma di essere pronto a fare qualsiasi cosa, pur di provare delle sensazioni, perché non riesce a sentire niente, si sente insensibile a qualsiasi cosa. Quindi è disposto pure a patire la fame. Questa errata scelta lo porta ad ammalarsi di anorexia e all'età di 14 anni Daniel viene ricoverata in una clinica per disturbi alimentari, dove rimane per 25 giorni. Daniel inoltre avverte un senso di derealizzazione, cioè si sente come se fosse fuori dal suo corpo e non avesse il controllo di alcuna parte. Questi episodi si verificano più volte a settimana e quando Daniel viene dimesso dall'ospedale gli vengono prescritti dei farmaci antipsicotici e antidepressivi. Assume il Lexapro, il Prozac e lo Zoloft. Daniel, come si evince, sta passando un periodo difficile, ma ciò che mi sconvolge maggiormente in questo caso è che diverse persone sono a conoscenza dei problemi di Daniel, sia del suo malessere mentale che dei pensieri omicidi. Lo sanno i genitori, gli amici, gli insegnanti e il suo terapista. Mentre assume i farmaci indicati, Daniel continua ad abusare di alcol e ormai non fantastica più soltanto di uccidere la sua ex insegnante, ma a qualsiasi persona gli capite a tiro. Di nuovo, Daniel lo rivela al suo terapista. Durante le sedute dice che, ogni volta in cui incrocia una persona per strada a scuola, pensa al modo in cui la ucciderebbe. Questo adolescente non potrebbe essere più esplicito di così, sta avvisando chiunque del fatto che è pericoloso, che sogna da anni di ammazzare qualcuno. Allora, perché nessuno interviene in modo concreto? So che un terapista non può riferire il contenuto delle sedute con i pazienti ad altre persone, perché vigio il segreto professionale, ma mi risulta che lo si può infrangere se il terapista ravvisa un comportamento potenzialmente pericoloso, sia per il paziente stesso che per chi gli sta intorno. La cosa più allarmante è che Daniel fornisce anche diversi dettagli sulle sue fantasie oscure. Afferma di voler staccare la pelle dalle mani delle vittime e di voler tagliare loro anche le palpebre, affinché siano obbligate a osservarlo mentre le tortura. Parlando con il suo consulente scolastico, Daniel gli esprime il suo desiderio di scatenare una sparatoria a scuola. Gli dice, mi chiedo quante persone sarei in grado di uccidere prima che loro uccidano me. Daniel spiega pure che le fantasie di cui racconta scalfiscono soltanto la superficie di ciò che vuole realmente fare. Una delle fonti consultate riporta che Daniel è astuto quando dialoga con il suo terapista o con il consulente scolastico, perché a loro non nomina mai una vittima specifica né svela i suoi piani reali. Dunque gli esperti non avrebbero il potere di intervenire. Che voi sappiate funziona così. Davvero non c'era un modo concreto per fermare Daniel perché a me sembra davvero assurdo. Uccide gli animali torturandoli, si entusiasma all'idea di scatenare una sparatoria a scuola, dichiara di voler commettere degli omicidi. Insomma, le sue intenzioni risultano abbastanza palesi e chiare. Il ragazzo quindi continua a convivere con questi spaventosi desideri quotidiani. I suoi pensieri però non sono più l'unico problema perché Daniel inizia a visitare un sito web raccapricciante chiamato Best. Al suo interno vengono caricati dei video inquietanti che mostrano omicidi, persone che si tolgono la vita, atti sadici e Daniel apprezza guardare gli uomini che torturano uccidono le donne che bevono il loro sangue e le conficcano un crucifisso in gola. È lampante che sono i siti internet come questo esercitare una brutta influenza sulle menti già problematiche, non la musica degli Slipknot. Daniel di solito, tra l'altro, guarda questi video con i suoi amici e la sua ragazza e insomma è molto felice nel vederli. Intrattiene rapporti intimi violenti con la fidanzata, si eccita quando le mette le mani intorno al collo e la strangola. A quanto ne so, lei ha consente e in generale non trovo scandalose le coppie che assicondano le proprie preferenze a letto. Ma qui stiamo parlando di Daniel Marsh, un ragazzo profondamente disturbato. A stare vicino a un soggetto del genere, personalmente, sarei morta di paura. Eppure chi frequenta Daniel non dà peso ai suoi comportamenti, alle sue attitudini e ai suoi desideri. Oltre a questo, Daniel ama fare ricerche sui serial. È affascinato da Jeffrey Dahmer, Ted Bundy e Richard Ramirez. Li considera dei salvatori della società e aspira a essere come loro. Daniel talvolta viene anche sorpreso a scuola con dei coltellini appresso. In questo periodo la sua rabbia verso gli animali non si limita agli uccelli, ma si estende ai gatti. Un giorno, Daniel racconta a un amico di aver strangolato a morte un micio. L'amico, rattristato, gli chiede perché abbia fatto una cosa del genere. Allora Daniel lo guarda, solleva le spalle e risponde, perché ne avevo voglia, odiavo quel gatto. Poi, poco dopo, manda un sms a un altro amico dicendogli che vuole uccidere il suo cane. Fortunatamente non l'ha mai fatto. Daniel ha ormai 15 anni e non è ancora mai stato ricoverato per via della sua salute mentale. Questo perché, a quanto pare, non ha ancora mostrato il segnale di voler convertire i suoi pensieri in realtà. Insomma, sembrano solo fantasie. Eppure, Daniel sta manifestando frequenti scoppi d'ira. A scuola prende a pugni gli armadietti e minaccia gli altri studenti. E questi comportamenti, almeno, esortano il personale scolastico a prendere dei provvedimenti. Daniel viene condotto in un ospedale psichiatrico dove è soggetto a un ricovero coatto. Mentre Lee continua a raccontare a tutti dei suoi pensieri, fornendo ancora più dettagli. Daniel, quindi, è stato ricoverato a causa della sua rabbia ingestibile e dei suoi pensieri oscuri. Ma nella struttura sta continuando a esprimere queste macabre fantasie. E nessuno fa nulla. Tanto che, due settimane dopo, viene dimesso. E io non posso far altro che chiedermi perché. Perché mai hanno rilasciato Daniel mentre andava ancora in giro ad affermare di voler commettere degli omicidi. Nel frattempo, anche la situazione familiare di Daniel è sempre traballante. Perché la madre Sherry e il padre Bill battagliano in tribunale per ottenere la custodia di Daniel e di sua sorella Sarah. Bill accusa l'ex moglie Sherry di avere dei problemi di salute mentale che non la rendono idonea a crescere Sarah e soprattutto Daniel. Un ragazzino che vive delle evidenti criticità. Sherry, dal canto suo, ribatte che Bill è sempre controllante, offensivo e arrabbiato. Quindi è lui quello inadatto a prendersi cura dei figli. Non sappiamo quanto siano fondate queste reciproche accuse. In ogni caso, Daniel è costretto a rilasciare una dichiarazione in tribunale in cui spiega con quale genitore vuole vivere. Ma Daniel non vuole scegliere tra la madre e il padre perché vuole bene entrambi nello stesso modo e desidera vivere con tutti e due un po' qui e un po' lì. A lui l'affidamento condiviso va bene. Alla fine però esce a riaottenere la piena custodia di Daniel e di sua sorella Sarah. Quindi viene decretata come la responsabile per le cure mediche di Daniel. È significativo che questa battaglia legale ha luogo appena 11 giorni prima dei tragici eventi che avverranno in questo caso. Forse questa esperienza ha spinto Daniel a realizzare le sue fantasie visto che finora non aveva secondato i pensieri cruenti che lo perseguitano da anni. Ho l'impressione che la gira di Daniel non sia così casuale. Arriviamo quindi al 13 aprile 2013 quando Daniel non riesce più a controllare i suoi impulsi e decide che durante la notte darà vita alle sue fantasie. Vuole uccidere qualcuno, non importa chi. In serata Daniel è a casa di sua madre e mette in atto i preparativi per portare a termine il suo piano. Si veste interamente di nero, indossa un passamontagna e posiziona del nastro adesivo sotto la scuola delle scarpe per evitare di lasciare impronte. A questo scopo, cioè sempre per non lasciare impronte digitali o tracce di DNA, indossa anche dei guanti. Daniel progetta questo momento da lungo tempo e non ha intenzione di correre dei rischi. È spaventoso pensare a quanto sia scrupoloso e accurato la gira di Daniel, che ha appena 15 anni. Ha premeditato di entrare in casa di qualcuno, ma non ha una vittima in particolare in mente, quindi esce per fare un giro nel quartiere. Si avvicina a diverse case in cerca di una porta d'ingresso o di una finestra aperta. Controlla tra le 40 e le 50 abitazioni quella notte, esaminando ogni singola porta d'entrata, nella speranza di trovarne una che non sia chiusa a chiave. Questo particolare mi ricorda il modus operandi di Richard Chase, il vampiro di sacramento, un noto serial di cui però non ho ancora parlato sul mio canale. Anche lui controllava le porte delle case e se ne trovava una aperta, la varcava e uccideva tutti gli abitanti della dimora. Sappiamo che Daniel è affascinato dalle storie degli assassini famosi, quindi è probabile che abbia preso spunto proprio dal caso di Richard. Daniel cammina per il quartiere, finché individua una casa con una finestra aperta nei pressi dell'abitazione di suo padre Bill. In questa casa vivono Claudia Mopin e Oliver North, detto Chip. Claudia ha 76 anni e lavora nella chiesa locale. Oliver ha 87 anni e aveva prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Successivamente aveva imboccato una carriera di successo come avvocato. Claudia e Chip si sono incontrati in età matura. Entrambi erano sposati con altri, ma dopo essersi conosciuti sapevano di aver trovato la propria anima gemella. Nel 2013 sono ormai sposati da quasi 20 anni e tra tutti e due contano 11 figli, 14 nipoti e 8 pronipoti. Sono estremamente premurosi e altruisti e adorano la loro famiglia. La sera del 13 aprile i coniugi si augurano la buonanotte, poi si addormentano come ogni sera, ma nel cuore della notte Daniel fa irruzione a casa di Claudia e Chip. Daniel si dirige nella loro camera da letto e li guarda dormire per 10 minuti. È molto nervoso, ma anche eccitato e euforico. Mentre è sotto osservazione, Claudia si sveglia, scorge questa presenza tenebrosa e inizia a urlare. Allora Daniel si scaglia subito contro di lei, iniziando a pugnalarla al busto. Claudia implora a Daniel di fermarsi, vittima del suo attacco così aggressivo, ma le preghiere dell'anziana fomentano la brama unicida di Daniel, che colpisce senza fermarsi. Nel frattempo Chip si sveglia disorientato, allora Daniel scatena una raffica di pugnalati anche contro di lui, finché entrambi perdono la vita. Claudia è stata pugnalata per 67 volte, mentre Chip per 65 volte. Purtroppo, però, lo strazio dei corpi dei due coniugi non finisce con la loro morte. Daniel, uno degli assassini più giovani, contorti e sadici di cui vi abbia mai parlato, vuole scoprire come sono fatte internamente le sue vittime, vuole esplorare i loro corpi. Daniel, quindi, taglia entrambi l'addome e inizia a sventrarli. Poi estrae il grasso dalla zona delle gambe e del busto e prova a rimuovere un occhio a Claudia, perché vuole vedere cosa c'è dietro il bulbo oculare. Ma l'operazione è troppo difficoltosa, non riesce a concluderla, così si concentra sul lacerare la fronte di Chip. Infine posiziona un cellulare nell'addome squarciato di Claudia e una tazza di vetro in quello di Chip. Dopodiché scappa dalla scena del crimine. Il giorno successivo la polizia arriva a casa della coppia di anziani e la scena del crimine l'accoglie come un bagno di sangue. Anche gli agenti impegnati nell'indagine affermano di trovarsi di fronte all'omicidio più satico che abbiano mai visto. Al momento, però, non riescono a trovare nessun indizio che suggerisca l'identità del colpevole. Non si rilevano tracce alle DNA, né impronte digitali, né di scarpe. E sulla scena del crimine non c'è nessuna arma. Ma, a causa della violenza e della ferocia dell'aggressione, la polizia va fuori strada. Ritiene che l'assassino conoscesse bene le vittime, ossia Claudia e Chip, e che avessi compiuto una vendetta nei loro confronti. Vero è che, in ogni indagine per omicidio, la polizia si sofferma sempre sulla famiglia e sugli amici. Le persone più vicine alle vittime rappresentano i primi sospettati. Così, gli investigatori portano in centrale un figlio di Chip, Robert, e due nipoti, Oliver e Tony. L'interrogatorio dura 12 ore e la polizia è convinta che uno dei tre sia il responsabile dell'omicidio. Le indagini fanno luce sul fatto che Oliver è affetto da schizofrenia, per cui si cerca di incolparlo. Questa mossa della polizia mi lascia interdetta, perché la sua malattia non lo rende automaticamente un assassino. Le teorie delle forze dell'ordine, in questo caso e nello specifico, sembrano pregne di pregiudizi. Infatti, mancano delle prove solide su cui basare queste tesi. Poi, la polizia scopre che Robert aveva fatto pulire i tappeti di casa sua nel giorno degli omicidi, e lo trova sospetto. Si ritiene che Robert avesse ucciso i coniugi, che fosse rincasato e avesse incautamente lasciato delle tracce del duplice delitto sui suoi tappeti. Ecco perché aveva deciso di pulirli. Io penso che anche questo ragionamento abbia proprio poco senso, visto che non c'erano delle tracce di impronte e di scarpe insanguinate sulla scena del crimine. Robert, come avrebbe potuto trasferire il sangue che nemmeno macchiava il luogo del delitto sui propri tappeti? Poi gli investigatori trovano un disegno di Tony che risulta inquietante, dato che mostra qualcuno che agguanta un coltello mentre sta in piedi sul letto dove alcuni bambini dormano distesi. La polizia adesso è convinta che sia Tony il colpevole, ma noi sappiamo bene che tutti e tre i sospettati sono innocenti anche se sono incappati in delle sfortunate coincidenze. Tutti sono stati sottoposti all'estenuante interrogatorio e alle ispezioni della polizia che deve anche gestire l'attenzione del pubblico. I tre indagati perdono migliaia di dollari perché devono assumere degli avvocati in gamba e riparare ai danni che la polizia ha fatto nelle loro abitazioni. Robert è quello che si trova con la casa nelle condizioni peggiori. Gli agenti hanno tirato via tutti i tappeti e persino smantellato le tubature. Per i familiari della coppia assassinata, tali sospetti sono un incubo e oltre a queste devono affrontare il dolore estruggente per la perdita di Claudia e Chip. Nel frattempo Daniel è tranquillo, sta continuando a vivere come se non avesse commesso qualcosa di orribile e la polizia non ha neanche la minima idea di chi sia Daniel Marsh. La cosa peggiore è che a seguito degli omicidi la vita di Daniel sembra addirittura migliorare. Torna volentieri a frequentare la scuola, i suoi voti si alzano, diventa meno violento, pensate che viene addirittura nominato come studente del mese. È una notizia terrificante, tra l'altro sappiamo che il benessere di Daniel può essere soltanto temporaneo. Presto ricresceranno in lui la frustrazione, la rabbia e la violenza che sono ramificate nella sua mente. Inoltre Daniel si comporta in modo presuntuoso a dir poco perché va persino in giro a dire che è l'autore del duplice omicidio degli anziani. Lo rivela ai suoi amici e alla sua ragazza. Si vanta di averlo fatto, afferma di sentirsi orgoglioso delle sue gesta. Ora, sia i suoi amici che la sua ragazza sono terrorizzati e la cosa più agghiacciante è che Daniel afferma di voler uccidere di nuovo. Probabilmente starete pensando ma perché i suoi amici e la sua fidanzata non lo dicono a nessuno? Perché non vanno dagli insegnanti o dallo psicologo scolastico o dalla polizia per riportare le affermazioni di Daniel? Sanno tutti che bisognerebbe farlo, che è la cosa giusta. Ma questi 15 anni sono davvero terrorizzati, temono che Daniel uccida anche loro. È terrificante pensare che Daniel di certo diventerà un serial se le autorità non scopriranno in fretta la verità dietro il duplice omicidio di Claudia e Chip. Il ragazzino intanto continua a vivere serenamente la sua vita fino a due mesi dopo il delitto. Poi, uno dei suoi amici fortunatamente decide di impedire che Daniel uccida di nuovo. Quindi si confronta con gli altri ragazzi e insieme decidono finalmente di denunciarlo. Così la polizia rintraccia Daniel che ha compiuto 16 anni e lo sottopone a un interrogatorio. Daniel inizialmente nega ogni coinvolgimento, per tre ore ripete di essere innocente. Allora la polizia cerca in tutti i modi di ottenere una risposta sincera, sa che Daniel sta mentendo, quindi fa delle domande riguardo alle sue fantasie. Spera che lui si confidi lasciando trappelare dei dettagli sugli omicidi commessi. Gli investigatori gli chiedono se abbia mai fatto delle ricerche sugli psicopatici o sociopatici utilizzando il suo computer. E Daniel risponde di sì perché le trova affascinanti. Durante la sua crescita ha fatto sempre più faticare a relazionarsi con le altre persone perché non le trova simpatiche e non prova empatia per loro. Sente dal profondo del suo animo che vuole ferirle, ucciderle, ma queste ossessioni scompaiono se pensa razionalmente perché non vorrebbe farlo davvero ed essere così. Daniel afferma che ogni volta in cui guarda qualcuno nella sua mente appare se stesso intento a uccidere quella persona. Racconta tutto questo agli investigatori con una faccia seria e una voce monotona e fredda. Vi assicuro che fa venire i brividi lungo la schiena. Il detective che lo sta interrogando pensa di essere sulla strada giusta visto che Daniel si sta aprendo con lui. Allora gli rivolge delle domande su Claudia e Chip a cui Daniel risponde sono davvero incasinato? Non è vero? Poi finalmente confessa. Entra nei dettagli dell'omicidio senza tralasciare nulla. Daniel spiega che la notte in cui ha commesso il delitto non ce l'ha fatta più a resistere e ha perso il controllo. Racconta che è rimasto in piedi accanto al letto dove dormivano le sue vittime guardandole per un po'. Era nervoso ma anche su di giri come detto e euforico. Finalmente stava per rendere reali tutte le sue fantasie nate quando aveva soltanto dieci anni. Dopo le pugnalate come Daniel racconta aveva aperto il busto a entrambi infilando un cellulare nell'addome di Claudia e una tazza in quello di Chip. Poi il ragazzo riesce a dire al detective qualcosa di ancora più inquietante. Gli spiega in che modo lo avrebbe ucciso. Con una tranquillità sconvolgente afferma ci sono molti modi per soffocarti a morte ad esempio con la cravatta o potrei sbatterti la faccia contro lo specchio finché non si rompe e usare il vetro per tagliarti le arterie oppure potrei cavarti gli occhi e poi schiacciarti il viso contro il muro. Non perché abbia qualcosa di personale contro di te eh. Dopo questo agghiacciante interrogatorio Daniel viene accusato di due capi di imputazione per omicidio di primo grado con le aggravanti di aver inflitto delle torture e di aver dimostrato una notevole depravazione negli omicidi. Durante il processo Daniel si dichiara non colpevole perché afferma di non essere in grado di intendere di volere ma viene valutato da uno psichiatra che lo ritiene poi completamente sano. Questo lo credo anche io sì Daniel ha indubbiamente dei problemi profondi ma ha elaborato un piano astuto con la piena consapevolezza di ciò che stava facendo. Sapeva che era sbagliato. Gli viene comunque diagnosticata la psicopatia ma questa non gli impedisce di discernere il male dal bene. Inoltre Daniel minaccia di uccidere anche lo psichiatra. L'accusa in tribunale ritrae Daniel per quello che è ovvero un assassino a sangue freddo. Daniel ha dentro di sé il seme del serial. È un omicida ancora in erba per ora ma se non viene assicurato alla giustizia di certo non si fermerà commetterà altri delitti diventando più scaltro. È assurdo pensare che se Daniel non avesse avuto una lingua troppo lunga quindi se non avesse fatto il gradasso con i suoi amici probabilmente la polizia non sarebbe riuscita ad arrivare a lui. Daniel non aveva nessun legame con le sue vittime le aveva scelte completamente a caso. Il ragazzo viene giudicato colpevole condannato all'ergassolo con un minimo di 52 anni prima di essere idoneo alla libertà condizionale. Daniel si è appellato alla condanna diverse volte dicendo di essere cambiato aveva commesso quegli omicidi quando era molto giovane e ingenuo. onestamente non credo che l'ingenuità faccia parte di Daniel pensava di essere più intelligente degli altri e di farla franca ma raccontare a mezza scuola di aver commesso degli omicidi non è stata questa gran furbata quindi Daniel è stato poco lungimirante ma ingenuo direi proprio di no. A seguito di una nuova legge approvata in California c'è però il rischio che Daniel ottenga una riduzione della pena dato che aveva solo 15 anni al momento degli omicidi. Come se non bastasse a Daniel Marsh viene pure concessa l'opportunità di tenere un discorso a Ted Talk che registra mentre è in prigione che si intitola Abbracciare la nostra umanità. Io trovo abbastanza assurdo che un assassino a sangue freddo come lui possa parlare di umanità. Sul palco Daniel spiega quanto fosse stata travagliata la sua infanzia e questo che l'aveva spinto a uccidere afferma che da piccolo aveva subito degli abusi infine dice di considerarsi completamente riformato quindi chiede di avere una seconda opportunità. Al termine di questo discorso il pubblico addirittura fa una standing ovation e assistere a tutto questo è stato estremamente angosciante per i familiari di Chip e Claudia. Fortunatamente riescono a far rimuovere il discorso di Daniel dalla piattaforma di YouTube a due giorni dalla pubblicazione. Un traguardo estremamente raro perché YouTube in realtà non elimina facilmente i video piuttosto li demonetizza o limita il pubblico in base all'età. Comunque non metto in dubbio che Daniel avesse vissuto un'infanzia travagliata con dei genitori che si facevano la guerra ma questo non giustifica le sue azioni. Nel 2018 e poi di nuovo nel 2021 quindi non molti anni fa viene deciso che a Daniel non sarà ridotta la pena che per adesso resta invariata. Daniel deve passare almeno 52 anni in carcere prima di poter richiedere la libertà condizionale. Finalmente le famiglie di Chip e di Claudia possono tirare un sospiro di sollievo credo che la sentenza sia giusta. Forse Daniel ha davvero le migliori intenzioni per il futuro non vuole commettere un altro omicidio e riprovare quelle emozioni che ancora riesce a ricordare. Afferma di essere cambiato di essere una persona migliore e potrebbe essere vero tutto ciò ma Daniel resta uno psicopatico che non può essere curato del tutto. Non giudico i giovani assassini come se fossero degli adulti so che il cervello di Daniel non aveva raggiunto il suo massimo sviluppo ma il suo comportamento dimostra che era già enormemente sadico brutale e violento. A mio parere ma fatemi sapere qual è la vostra opinione perché il mio parere non rappresenta la verità assoluta questo individuo sarà sempre un potenziale pericolo per gli altri anche contro la sua stessa volontà. Infine voglio dedicare quest'ultima parte del video al ricordo delle vittime Chip e Claudia due persone innocenti dal cuore grande definite da tutti come amorevoli e premurose non meritavano questa tragica e brutale fine e la loro famiglia non meritava di patire un dolore così grande. Chip amava follemente la sua famiglia la sua chiesa e la sua comunità aveva lavorato duramente per tutta la vita aveva prestato servizio in marina era finalmente in pensione e stava trascorrendo il tempo che gli rimaneva da vivere accanto alla sua anima gemella Claudia anche lei era conosciuta per il suo spirito gentile sapeva far sentire tutti accettati e ascoltati chiunque ha conosciuto Claudia non può far altro che descriverla come una donna consapevole dolce e protettiva ma le tragedie per questa famiglia non si esauriscono qui ricorderete il nipote di Chip Tony che era stato accusato ingiustamente per via del disegno che aveva fatto nonostante fosse completamente innocente come ha testimoniato anche l'arresto di Daniel Tony non è riuscito ad accettare il giudizio delle persone che hanno continuato a considerarlo il colpevole tragicamente a distanza di tre anni dall'omicidio dei suoi nonni Tony si è tolto la vita ecco l'ennesima vittima innocente di questa storia che rende il caso ancora più drammatico io spero che le famiglie di Chip e di Claudia stiano bene oggi mi auguro in particolare che Robert e Oliver anche loro accusati ingiustamente si siano ripresi sono curiosa di conoscere le vostre considerazioni su questo caso secondo voi qualcuno avrebbe potuto valutare più seriamente l'ossessione di Daniel e agire in tempo e voi lo ritenete pienamente colpevole o meno scrivetemi quello che volete nei commenti fatemi sapere che emozioni vi ha suscitato questo caso cosa ne pensate quali sono le vostre idee e le vostre opinioni io non vedo l'ora di leggere i vostri commenti quindi io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felice basta che non faciate nulla di criminale ciao a tutti